Mi sono confrontato con Draghi, lo sostengo anche in questo caso. Io sto aspettando da giorni la chiamata di Letta, che ha il mio numero, perché polemiche di mesi sul DDL ZAM possono essere superate in due minuti. Tutelare, difendere il diritto all'amore, il diritto alla vita, il diritto alla libertà è fondamentale, quindi punire abusi, violenze, discriminazioni, aumentare le pene per questi deficienti, per questi delinquenti è un nostro obiettivo, se come richiesto anche dal Santo Padre e dalla Santa Sede, dal testo originale si toglie un po' di ideologia e quindi si toglie il tema che riguarda le scuole, si tolgono i reati di opinione, noi la partita la chiudiamo in una settimana. Se invece qualcuno volesse continuare ad andare avanti a fare ideologia, a fare propaganda, a questo punto però mi viene il dubbio, non per difendere omosessuali, lesbiche, trans, ma per usarli, io penso che non farebbe un buon servizio al Paese.